Seguiamo una mano al tavolo 18 Tavolo 18 Fold, fold Fold Facciamo race Race 900 Fold, fold, fold Ho messo tutti i fold E 6 cold Quindi 3 giocatori in gioco Vediamo insieme il flop 6, 2, 8 Check Check Bet 2000 C'è race or in Di race or in 4850 C'è il fold E naturalmente c'è il cold Vediamo le carte 8, 10 Asso, asso Ho preso 3 volte C'è un 6 E un 10 Mais 6 Coppia, coppia raste There Lassi Grazie a tutti.